benvenuti all'interno di un'altra puntata di javascript in pillole una breve serie in cui vado a spiegare alcuni quei concetti che sono alla base chiamiamola così della programmazione moderna che comunque si incontrano con molta facilità soprattutto quando si viene contatto con quelli che sono i principali framework per javascript o comunque le librerie come nel caso di react questa serie prende un po forma nasce dall'etigenza di avere un posto dove tutti coloro che sono davvero dei principianti e che appunto si approcciano a quelli che sono i framework o le librerie possono trovare una spiegazione di questi concetti che spesso come fatti nel mio corso vengono un po dati per scontato perché praticamente di default ecco prima di passare all'apprendimento di quei fermi oppure sono così tanto utilizzati che passano un po come come scontati oppure magari da alcuni non sono ancora conosciuti in questa pillola andremo ad approfondire quello che il concetto di concatenazione opzionale in inglese il bello optional chaining che ci permette di controllare se un valore all'interno di un oggetto esista prima di comunque cercarne valori innestati questo perché è molto importante perché quando andiamo a cercare come magari possiamo fare con people sono un console.log console.log cerchiamo di fare un console.log di people 1 quindi stiamo lavorando su john e cerchiamo location e ovviamente esiste cercassimo come negli altri temi zone vedete che noi otteniamo undefined nel caso noi andassimo a cercare quello che è offset che è presente in tutti gli altri valori noi otteniamo un errore e quindi andare a verificare l'esistenza il fatto che questo valore time zone esista davvero all'interno di un oggetto è davvero fondamentale perché sennò una nostra applicazione potrebbe crashare da un momento all'altro questo perché tantissime volte lavorando con le piai possiamo ottenere comunque quelle che sono informazioni di questo tipo o comunque se un'epiai venisse modificata noi dobbiamo avere un codice che sia in grado di gestire eventuali modifiche senza far crashare l'applicazione o che mostrano un messaggio di di questo tipo e questo è molto buone perché se magari io volessi iterare appunto quello che è people e quindi avessi magari appunto piccolo tot fuori c a cui passassi person con una bella function si qua avesse semplicemente un console dot log di appunto quello che abbiamo appena visto quindi perso dot location dot time zone dot offset come vedete io ottengo 7 più e poi ottengo un errore e questo farebbe crashare l'applicazione basterebbe su immaginate 10.000 risposte che arrivano da npi anche solo uno che avesse un qualcosa di mancante un errore qualsiasi e l'applicazione all'improvviso crescerebbe questo non deve succedere e noi abbiamo chiamolo così due opzioni sensate logicamente sensate per andare a fare questa una terza è fare un if statement pesantissimo super innestato con svolgere tutto non solo nel caso di stesse ma nel mondo delle persone che vivono nel 2021 abbiamo veramente due due opzioni la prima è quella di utilizzare una short circuit evaluation per verificare che i valori esistano nella loro concatenazione quindi andare a vedere un console dot log e controllare che person dot location nel caso person dot location esista andare a verificare che person dot location dot time zone esista solo nel caso che anche questo valore non sia appunto undefined andare a vedere che person dot location dot time zone dot offset e andare a consolare questo valore e in questo caso ottengo come vedete 7 undefined e non ottengo un errore quindi la mia applicazione non non crash questo metodo non è bellissimo ma è molto efficace nel caso non aveste visto la puntata la pillona anzi dedicata alle short circuit e voleste approfondire il link in descrizione ma un'alternativa un pelo più moderna che noi abbiamo e che riassume questa scrittura in una sola riga di codice e la seguente con solo dot log person punto interrogativo punto che vuol dire controlla che questo esista location punto interrogativo punto time zone punto interrogativo punto offset come vedete ottengo esattamente lo stesso risultato questo è unendo operator detto in maniera molto banale e come vedete ci mette totalmente al sicuro da qualsiasi problema se io qua andassi ad aggiungere un ora operator sono totalmente al sicuro quando il valore che ottengo è undefined in questa maniera sono in grado di rispondere con quello che è un valore da me messo di default come se qua mettessi default più 6 6 2 punti 00 come vedete io ho formato meglio così non fa schifo sono perfettamente in linea con il resto ho fornito un'opzione e qualsiasi cosa io vada a pasticciare sono tranquilli mettiamo caso che questo non avesse neanche più location cambiassero l'epia in questa maniera io non subisco nessun danno ovviamente poi devo andare a risolvere il problema trovare comunque delle alternative però questo mi garantisce un'ottima copertura da quelli che sono possibili errori possibili crash causati da problemi dalla risposta in api che sono comunque molto frequenti o addirittura al cambiamento in api che magari rinomina questo parametro posizione io praticamente dal nulla mi ritrovo con un'epia totalmente rotta in questo caso anche questo tipo di variazione non mi causa assolutamente nessun problema